Io innanzitutto ringrazio i colleghi perché come al solito i provvedimenti li porti a casa, non se solamente c'è il Ministro che lo vuole portare a casa, ma se è dietro una squadra, un gruppo parlamentare, un gruppo con i quali riesci a condividere gli obiettivi, i progetti e riesci anche a farli condividere il più possibile dai colleghi degli altri gruppi parlamentari e proprio per questo motivo siamo riusciti a presentare un emendamento che aveva riscosso un successo non indifferente. Noi siamo partiti da un'idea e da un presupposto che l'ultimo sondaggio, l'ultimo rapporto fatto da Ismea negli mesi scorsi ci dice che 9 italiani su 10, quindi il 90% degli italiani, dicono che l'indicazione geografica sull'etichettatura è fondamentale nella scelta del prodotto e quindi ritengono importantissimo capire da dove arrivano i prodotti che vengono consumati. Partendo da questo presupposto siamo andati a cercare di capire che cosa succede, come si poteva, ci si poteva muovere. Sappiamo benissimo che in passato chi ci ha preceduto aveva fatto una legge sull'etichettatura ma ahimè quella legge sull'etichettatura non è mai stata ratificata, non è mai stata comunicata all'Europa. Infatti la prima cosa che ci è stata detta dal commissario competente europeo Andrew Caitis è stata Sì Ministro, bravi, viva l'Italia, bene l'Italia che state facendo questo lavoro, è altrettanto vero che comunque voi non state rispettando le regole europee. E quindi l'obiettivo che ci siamo dati e su cui abbiamo lavorato è stato quello di presentare un emendamento che è un emendamento che poi è stato approvato ed ora in avanti la necessità di indicare in etichetta non solamente dove è stato trasformato quel prodotto, un po' come stanno chiedendo la maggior parte delle aziende a livello europeo, ma soprattutto da dove provengono il contenuto. Quindi se c'è una scatola di pomodori e nel contenuto ci sono pomodori pacchino, pomodori italiani ed è stato trasformato in Italia, che ci sia indicato che quel pomodoro è un pomodoro italiano. Stessa cosa per esempio per l'olio o per tantissimi altri prodotti alimentari. Anche perché oggi come oggi il dibattito, come dicevo, il dibattito è sempre più aperto in Europa e si stanno creando due linee di pensiero. Una linea di pensiero che dice, con la quale noi non siamo d'accordo, che dice che l'importante è che il prodotto sia trasformato in Europa o trasformato in Italia e allora va benissimo indicare fatto in Italia, made in Italy, e un'altra linea di pensiero che è la nostra, che non basta che il prodotto sia stato trasformato nel nostro paese, ma per essere made in Italy, per essere un prodotto italiano, 100% italiano, il prodotto alimentare deve essere stato coltivato, allevato o pescato nel nostro paese. Non perché vogliamo, come dicono i nostri detrattori, che vogliamo obbligare gli italiani a mangiare solo italiano. Lungi da me da pensare una cosa del genere, assolutamente no. Riteniamo però importantissimo il fatto che il consumatore debba essere messo nelle condizioni di decidere. Se prendiamo, io arrivo dalla provincia di Pavia, e faccio sempre l'esempio di casa mia, e penso al riso, se compro, se la signora Maria, la mia vicina di casa, va al supermercato, io voglio che la signora Maria sia messa nelle condizioni di poter scegliere se acquistare un riso italiano e quindi coltivato in Italia, oppure se acquistare un riso coltivato in Birmania o Cambogia, o coltivato su un altro pianeta. È la logica del mercato e la possibilità di poter scegliere. Riteniamo che i consumatori debbano essere messi nelle condizioni di poter decidere nel modo più tranquillo possibile e sereno possibile. Poi sarà il mercato, sarà il consumatore, sarà tutto quello che vogliamo a dire che è meglio mangiare, i consumatori italiani preferiscono mangiare il riso italiano anziché il riso che arriva da un'altra parte del pianeta. Sotto questo punto di vista abbiamo immediatamente, visto che non vogliamo fare gli errori che sono stati fatti in passato, abbiamo comunicato in Europa questo emendamento e di conseguenza anche qua abbiamo rispettato quella che è la legislazione europea e abbiamo durante l'ultimo bilaterale che ho fatto proprio a Bruxelles circa tre settimane fa abbiamo comunicato e abbiamo spiegato al commissario le nostre ragioni in un modo molto tranquillo, sereno, senza conflitto proprio perché ci siamo resi conto di una cosa e qui lo dico con molta soddisfazione che sono sempre di più i paesi europei che la pensano come noi mentre fino a qualche mese fa c'era l'Italia e pochi altri che si contavano neanche sulle dita di una mano oggi come oggi i paesi sono sette e dopo vi dico quali sono e qualche settimana fa si è aggiunto l'ultimo che è l'Austria quindi io vi elenco così almeno avete anche un'idea che non siamo da soli e capirete il perché ci sono questi paesi Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Lituania, Romania e Finlandia e l'Austria il 17 gennaio a Berlino in occasione della Green Week ha dichiarato, ha presentato il modello italiano dichiarando di voler seguire questo tipo di approccio quindi vuol dire che il nostro modello è un modello che viene preso come best practice vuol dire che i paesi che come noi molti paesi che come noi hanno delle eccellenze penso soprattutto alla Francia e hanno delle eccellenze da tutelare non si accontentano più del made in non si accontentano più dell'idea anche che sta l'ulteriore strada che si sta percorrendo fatto in Europa perché adesso hanno lanciato quest'idea che il prodotto è fatto in Europa non si accontentano più e vogliono tutelare le loro eccellenze locali perché sono paesi che hanno hanno dei prodotti di qualità che devono essere tutelati da tutto il resto e soprattutto da produzioni che nulla hanno a che fare con la tradizione, la qualità e l'esigenza che hanno tutti gli altri consumatori noi pensiamo che questo sia il primo step perché poi vogliamo arrivare fino in fondo e vogliamo far sì che questo provvedimento quest'idea, quest'idea di tutela dei consumatori diventi non solamente un'idea di otto paesi ma debba diventare un'idea dell'Europa la cosa su cui lavoreremo con il prossimo Parlamento europeo con i prossimi commissari europei, con il prossimo Consiglio la cosa su cui lavoreremo sarà proprio questa sarà quella di cercare di andare a tutelare le eccellenze enogastronomiche e le eccellenze alimentari dei vari Stati l'Europa, e qui termino, l'Europa in questo momento deve tutelare la nostra agricoltura noi siamo un continente sotto attacco non è solo l'Italia che è sotto attacco è il nostro continente che è sotto attacco perché ha delle caratteristiche perché ha delle caratteristiche qualitative ha delle modalità di lavoro della tutela, soprattutto del lavoro e i vari controlli che vengono fatti sulle eccellenze e di conseguenza l'obiettivo che deve avere l'Europa è quella in questo momento di da un lato promuovere ma dall'altro lato permetterci di poter garantire ai consumatori di tutto il mondo ma soprattutto io penso ai consumatori italiani di poter garantire la possibilità di avere dei prodotti con le qualità certificati grazie